Benvenuti al canale, sono Franco Mazzoli e sono qui oggi ragazzi per parlarvi di questo gioco qua. Questo gioco ci lascia un attimo basiti, un free to play potrebbe essere una novità da portare nel canale, a noi piacciono i free to play perché permettono a tanti di voi di giocare insieme a noi, che sono dei tipi di giochi che tutti lo possono scaricare in 4 e 4 e 8. Allora ragazzi il fatto è questo, Darwin Project, sembra una copia marcia di Fortnite, però me l'avete chiesto tutti, ovvero mio cugino, mio figliolo, l'amico di mio figlio a scuola e qualcun altro qua e là, quindi tutti. E quindi ho pensato di, ma perché portarlo in live e rovinarsi il canale? Facciamoci un video. Ok, andiamo a provare questo Darwin Project, che dall'immagine iniziale già a buttare i primi gerghi di vomito, proprio brutti così, a svomitarli proprio in terra, a smerdare tutta la camera. Proviamo, guarda, già la fantascienza brutta che io odio, con le mani di Titano, quella roba lì. Già mi fa cagare ciò da inizio, vediamo, però diamo una possibilità, Frank, v2play, è bello Frank, portalo, proviamo, vediamo, vediamo, vediamo la vaccata, eh, spalla di vaccata, guarda subito a quella piazzata, con l'arco e le ali di meccaniche, schifose, vediamo, dell'Ureal Engine, motore grafico ragazzi, una bomba, vediamo. Colteschio, uh, sicuramente ci sarà già la musica a rovinare tutto, Darwin Project, il progetto di Darwin, ma non si chiede tanto a fare un semplice, un semplice free to play, battle royale, è un battle royale questo, un free to play fatto bene, un battle royale fatto bene, semplice, con armi semplici, con realtà di gioco e tutto. Non è che si chiede chissà cosa, parla anche con una grafica cartonesca, ma metti una pistolina, un fucilino, tutte le cose basilare. Sì, vabbè, qui si compra due te, già le immagini, guarda, già queste immagini brutte proprio. Ma per favore, fammi togliere subito la musica, guarda, 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 guarda nel menu, guarda nel menu, sì, yes, subito, esattamente che la musica e non la sopporto. Lo vedo, è stata una vaccata, ragazzi, guardate che se la scaricate dopo che mi vedete una vaccata, non ci capite proprio niente. Guarda, 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 eh, abbiamo tutte le cose, poi ci sa, al punto dove non si può shoppare, ovviamente, vediamo. Mi fai vedere dov'è prima di tutto la musica. No, la odio la musica, io, ma non per il copyright, mi dà proprio fastidio, fastidio. Shop, ovviamente qui si può shoppare, sono d'accordo, oh, guarda, mi sembra che l'ho già visto in gioco del genere. Guarda, non mi ci fa andare nelle impostazioni, guarda, sono là, sono là, io non ci posso andare. Guarda, guarda. Ma shoppami tua sorella, voglio le impostazioni. Vabbè, dai. Custom, via. Cosa sono? Ah, addirittura sono stanze. Andiamo in qualcosa di pieno, capiamo un attimo cos'è questo gioco. Ma è un Battle Royale o no? Non si capisce ancora. Training. Tutorial, pratica. Ma che tutorial devo fare? Vado all'assunto, via. Io parto, via. Non va, va, in solo. Vai. Vediamo, speriamo almeno in gioco la tolga la musica. Beh. Ho detto. Ho già messo. Portiamo una live, ho chiamato un fuoco stavanti c'era no, ho detto, ho già ci portiamo una live su questo gioco. Vediamo Bolevè. �타ca č fan. francamente io vi so che vi do. Dio,�so è un video. tablet, lo chiedo, facciamo una cosa, quel po' un video, luce, va. Solo veloce, 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 veloce. fa franck fan francamente io vi so che viva taretta detto facciano un po' un video veloce proprio veloce 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 a parte lento pronto ma no con un bambino ma no con i francesi in atto il mondo e solo voi ci potete giocare a sto gioco avete creato bus bus in e royale giocate a cusina royale a commento e domanda vista ma scusa avete invitato usino giocate a cusina royale a cusina royale il pc cc senti tanto buio guarda parola parola ciò che è per quanto parte ci sto perdendo tempo non si capisce niente non ci si capisce niente l'uomo l'uomo scataroni ma la maledetta francese guarda guarda brevo il tutto non è stato ma stai zitto già mi dai fastidio andiamo eh viva fortnite viva spacchiamo tutto spacchiamo il muro tutto che merda che merda che merda c'è ma la gente butta via tempo a fare sta roba capito quello che mi fa arrabbiare io voglio vedere i bambini chi ci gioca ragazzi i grandi se si mettono via a giocarci un bambino che si mette a perdere tempo su un gioco del genere son curioso lo voglio vedere guarda lo voglio proprio vedere voglio vedere chi è che si perde in una cosa del genere fammi vedere chi è eh fammi vedere chi è che ci perde tempo in un gioco del genere come si fa come si fa uuuuuh non hanno apprezzato il mio commento dimmi te r1 r1 la potenza del fuoco guarda sono bello stacca sprendendo quindi sapete quanto ci vuole a mandarla a fa va a vedere eh c'è è un gioco veramente non ti dice la sezione guarda se c'è una cosa che odio è le tutte le cose così guarda 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 tutte le cose con fantascienza la fantascienza come la odio nei giochi a parte fa schifo anche il posto proprio brutto guarda 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 non cambia neanche guarda non cambia neanche la scivolata non ti fa neanche la scivolata questo uccellaccio pfff schifoso vedete che si fa di noi raga madonna eh ragazzi se qualcun altro si scarica sui giochi e e ma è il tuo nonno ma poi non si capisce come mettere le armi come sono quei giochi complicati cosa sto scavando che dietro ai pezzi non so cosa stai facendo guarda e poi poi R1 eh faccio una freccia faccio ma guarda che merda di gioco ma guarda veramente che merda di gioco facciamo il fuoco ma posso fare un una una palla di negra ma perchè io perdo tempo in queste cagate ma io con tutte le cose che c'ho da fare no? vi spiegate perchè perdo tempo in queste cagate vediamo dove c'è quell'obiettivo ma neanche ti fa capire il radar dove andare proprio buttato lì così guarda che brutto guardate che brutto sto gioco veramente raga veramente raga non scaricate sto gioco non fate la mia cazzata che ho fatto io a provarlo a dire ma chiamogli una possibilità ma già dalle immagini io i video non li guardo mai un giorno no perchè voglio la prima impressione però le immagini posso dare un'occhiata all'immagine per cagare ho dato un'occhiata all'immagine e ho detto ma veramente voglio fare sta cazzata e l'ho fatta l'ho fatta però dice frank ma devi portarli per vedere no? è un bit free to play di tutto lo porti i sims si ma questa è una merdata raga veramente raga se io vedo qualcuno di voi che gioca a questo gioco lo offendo che no per tutta la vita lo giuro ve lo giuro io devo essere offeso per averlo portato quindi nei commenti offendetemi frank ma che schifo ho portato offendetemi pure per aver portato sta roba cioè io dico ma i giochi che devono si devono perdere tempo a creare tutte ste cose ma cosa vi ci vuole a fare un gioco fatto bene ma poi non è neanche non si capisce neanche come funziona sto battle royale guarda che lavoro dove sto andando no raga io non non c'è qualcuno che mi può volo anche dai volo anche forse sta morendo però attenzione ah perchè devo scaldarmi questo è un sacco stiamo al cammino muori fammi un favore muori guarda io non vedo l'ora che muori si si muori muori si ci siamo quasi raga è quasi finito il dolore dai fatti male guardate il gioco com'è brutto guardate il gioco com'è brutto raga veramente io non riesco a capire uno di voi che possa perdere tempo qua lo dico ma c'è scaldare le mani guarda guarda è sopravvivenza è questo il suo vivo non mi direi che ce l'ho fatta a scaldarmi vai di là vai di là vediamo dove dice la fece guarda guarda mi gira sopra sinistra guarda 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 io vado a sinistra e mi dice vai ancora a sinistra ok da che parte esattamente scusami guarda guarda come dire no sta andando alla parte sbagliata devi andare laggi ok io sono questo sto andando più o meno in quella zona ha avuto la sorella mamma dai fuoco te tua sorella e tutti io muori per favore ma c'è qualcun altro che mi ammazza che mi fa un favore quanto dura sto calvario raga io ci ho provato ma vattene la fan raga fate così guarda la cosa più bella di questi giochi marci schifosi guarda che se il video qualcuno di voi qui ci gioca sta roba zitto che forse muore lo voglio far morire lo voglio far morire muore così non mi muovo di più non do neanche un po' di possibilità di vita si muori bene merdoso schifo fu schifoso merdo bene si la seconda vita ah c'era un altro ah questi sono gli altri che stanno giocando ah stai cercando la neve cerca cerca allora guarda così guarda si fa uno due tre sono tre opzioni a fare quattro sono sei giga di merda quattro dicevo cinque sei e il mondo è lì l'abbiamo liberato di una cacca umana una cacca umana ragazzi questo era der darwin project questo è un gioco da non guardare neanche ragazzi non contate che se la roba è free to play va provata a volte dovete anche dire no non la proviamo proprio guarda guardate le immagini dalle immagini lo potete capire io più che altro ho detto ci faccio il video per farvi capire lo schifo proprio di questa roba qui lo schifo lo schifo dovete capire a volte quali sono i giochi da giocare e i giochi da non giocare quello è un gioco da non giocare avete giochi belli? scaricatevi GTA scaricatevi cusin del zi fifa basta questa altra roba rainbow se vi piace prima persona la sciampata ha rovinato tutto fatto male brutto anche quella roba lì tanti altri giochi più bellini ci saranno però ora per ora permesso in questi quattro io riesco a giocare divertendomi ragazzi detto questo detto tutto ci vediamo nel prossimo video per favore fatelo per me non scaricate questo gioco perché vi offendo a vita signori a Frank Massone è tutto ci vediamo nel prossimo video passik 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 passik